Rizzo che è il candidato sindaco dell'Unione di Centro, ecco un'altra formazione che si candida ad occupare questo spazio politico. Sì, sono il candidato dell'Unione di Centro che tuttavia è l'unico esempio presente di semplificazione del quadro politico, siamo stati l'unica forza che ha tentato fino in fondo di rendere meno complicato il voto alla cittadinanza perché anche la nostra è la sintesi di due aggregazioni che hanno fatto percorsi paralleli ma che poi nulla le distingueva e allora abbiamo preferito riunirci, semplificare il quadro, essere presenti perché non abbiamo ansia di protagonismo e abbiamo deciso di stare sotto le insegne di un partito perché noi pensiamo che i partiti siano importanti, abbiamo bisogno di partito non di politici, noi siamo contrari alla logica per i quali i politici fanno tanti partiti quanti sono le loro ambizioni, noi restiamo sotto un partito perché i partiti che conoscevamo, che dialogavano, che riunivano le persone e che democraticamente tracciavano linee politiche sono quelli che mancano, noi abbiamo troppi politici, troppo pochi partiti. Grazie, grazie a Rizzo. Unione di centro, quali sono le priorità? Noi abbiamo la netta sensazione che alla città dobbiamo parlare in termini di futuro, noi abbiamo due slogan, uno è Rovigo viva, solo bella non basta, nel senso che noi pensiamo che la città abbia bisogno proprio di un'anima nuova, i problemi li conosciamo, le emergenze pure, molti passi avanti sono stati fatti e tuttavia la città sembra ancora in difficoltà, sembra ancora impantanata. Noi le cose le abbiamo dette in campagna elettorale, abbiamo parlato con i cittadini e sappiamo esattamente e loro sanno qual è il nostro programma, fatto soprattutto però di riscoperta di un orgoglio e di un'appartenenza a questa città dove davvero c'è bisogno che i rodigini alzino la testa e guardino dritto negli occhi il proprio futuro. Per questo noi diciamo, come ultimo slogan, fuori da un evidente destino. Non siamo più la Rovigo post-alluvionale, non siamo più la Rovigo che si sente la cenerentola del Veneto, siamo una Rovigo culturalmente avanzata, ha pregi e eccellenze in ambito di accoglienza, ha eccellenze che dobbiamo ritrovare e riscoprire anche in uno sviluppo economico che punti sulla logistica, che punti sul cultural turistico e che punti soprattutto su un commercio ritrovato e rinnovato e attrattivo della persone che rianimano il centro. Noi credo che i cittadini di Rovigo secondo questi piani ci seguiranno e troveranno la Rovigo del 2020 più bella e più viva. Grazie Rizzo.